Un gruppo di anziani davvero, non come le signore di prima, un gruppo di maschietti anziani che vogliono ballare per la New Fashion German Dance. E allora Gianni Manola hanno pensato bene di dare uno spazio anche a loro. Eccoli qua! Musica maestro! 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 Corazón de acero, tengo yo Lo maldito amor, pieno que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engaño Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me besa Pum Pum Gera Tiene adrenalina y mete la pista Vente a mí lo que sea I like you Pum Pum Girl I like you Pum Pum Girl I like you Pum Pum Girl I like you Pum Girl I like you Pum Girl I like you Pum Girl